Ok, riaccoci qui al secondo video. L'RPG di Square Enix. Vediamo. Per iniziare cambiamo a questo signore. Questo è di Siga sostanzialmente. Quindi la Siga viene molto attratta da Nintendo Switch e le possibilità che si possono fare con questo nuovo hardware. Consideriamo nuovi giochi per Nintendo Switch che presenteremo presto. Questo nuovo hardware sta portando nuove sfide e c'è un sacco di appealing points, cioè punti particolari di attrazione e nuovi concetti da poter creare e vi presento qualcosa. Grazie, grazie, grazie. Grazie Nagoshi. Continuiamo. Diciamo anche questa persona. Cambiamo. Bethesda, ragazzi, Bethesda. Sì, Skyrim arriva su Nintendo Switch. Quindi Skyrim arriva su Nintendo Switch. Quindi quello che avevamo visto era vero. Sì, arriva. Ok, come al solito dice, ci piace fare giochi con open world dove vi potete perdere, eccetera, eccetera. Quindi la versione Nintendo Switch di Skyrim. Adesso potete giocare Skyrim dove volete, portarlo dove volete, giocare dove volete. E quindi, ragazzi, attenzione perché... E cosa è molto eccitante? È finalmente Bethesda lavorare con Nintendo. Hanno portato così tante innovazione e divertimento a noi. E lo stanno facendo ancora. E Switch introduce qualcosa di completamente nuovo e li ringraziamo per averci portato a qualcosa di completamente nuovo. Quindi, confermato, chissà, magari con qualche sistema di controllo particolare. E cambiamo a quest'altra persona. attenzione. Salve, sono Suda51. Ok, Suda51. Oggi vi voglio far vedere. Sono stato invitato per parlare di uno dei giochi per cui sto lavorando. vi ricordate Senta Destroyed? Travis Touchdown che tornerà su Nintendo Switch. Per favore potete mostrare l'illustrazione. Eccolo, Travis Track again. E questo arriverà anche su Nintendo Switch. Non è stato deciso ancora un titolo. ma un anno fa sono stato a qualche qualche evento in Giappone di gaming. E ho scambiato le idee con l'Indie Game Community, con la comunità di giochi indipendenti. e abbiamo scambiato nuove idee per la console. questa è e e e per gli indie game è una piattaforma che sembra essere molto friendly, molto facile da sviluppare per i giochi indie. Quindi ci dobbiamo aspettare dobbiamo aspettare una piattaforma friendly e amichevole per gli sviluppi di giochi indipendenti. Quindi ci parla degli indie games. Ecco un gioco su cui sta lavorando lui. qualcosa che prenderà vantaggio di questo nuovo di questo nuovo ambiente su cui è facile sviluppare per gli sviluppatori indipendenti. ok quindi ci sarà una fusione anche di vi ho parlato di deathmatch quindi suppongo anche di multiplayer adesso. e quindi sicuramente vedete travis andare in giro per un gioco per nintendo switch. Calpe ovviamente qui. Attenzione un altro ospite. Patrick Sutherland EA eh sì qui è alto 2,90m per me essere su questo palco è un segno e qui c'ha ok, fortunatamente qui faccio prima io di lui quindi EA EA Sports ragazzi, EA Sports arriva su nintendo switch per quanto a lungo ho giocato i giochi sono stato un grande fan della cultura nintendo e quindi tanto per farvi capire noi abbiamo abbiamo dato il loro loro hanno tre nomi cioè il middle name c'hanno in America e lui ha chiamato il figlio Luigi il middle name quindi tanto per farvi capire quanto è fan di nintendo insomma ha significato sempre molto per loro quindi sono molto eccitato che i più i sport più popolari arrivano su nintendo switch quest'anno probabilmente possiamo aspettarci la line up di EA e sport su nintendo switch FIFA ovviamente ok quindi FIFA sarà il nuovo parametro per come gioco di sport immersivo mai creato in effetti pensate potete giocare online dove volete su portandovi dove volete dove volete lo stand insomma particolare potete giocare con chiunque suppongo che potete portarlo dove volete giocare con chiunque eccetera eccetera e questa è una particolare innovazione ovviamente credo che sia soltanto per tra utenti nintendo switch credo potete potete essere connessi e potete giocare con nelle varie leghe quindi qui sottolinea l'e sport e la presenza dell'e sport su questo e per quello che è già famoso FIFA sostanzialmente cioè già i tornei che si fanno eccetera crediamo quasi al 110 per cento sarà tra utenti nintendo switch c'è questa esperienza online sicuramente però chiaramente la possibilità di portarsene un giro di giocare dove volete di potrebbe essere molto interessante ok nei prossimi mesi vi mostreremo di più di più nei prossimi mesi quando porteremo tutti i giochi e sport su nintendo switch grazie quindi praticamente una presentazione una carrellata di vari sviluppatori che dicono sostanzialmente quello che portano su nintendo switch abbiamo visto skyrim abbiamo visto sviluppatori indie e EA e EA e e adesso esatto skyrim FIFA square abbiamo visto quindi grazie per la mia presentazione per la mia portion per la mia porzione di di presentazione attenzione vediamo che ci fanno vedere rapidamente qui si vede anche Sonic si vede Mario Kart ci fanno vedere ancora un video che vi lascio godere magari con qualche mio commento appunto quindi Mario che va in giro per il mondo usando questo nuovo cappello vivo Splatoon 2 abbiamo visto prendo Switch lo prendete lo portate dove cavolo vi pare la durata della batteria è da due e mezzo abbiamo visto Minecraft si è visto chiaramente si è visto Minecraft adesso si è visto ok Giochi Lego si è visto un picchiaduro di Dragon Ball si è visto Xenoblade Chronicles 2 ragazzi sembrava non vorrei dire cazzata a me sembrava di vedere un farming simulator non so bene che diavolo era Sonic quindi un dancing game quindi FIFA ragazzi e questo nuovo modo di giocare il One to Switch attenzione questo è il retro game nettamente il retro game qui eh qui ragazzi il retro game decisamente virtual console eh si Minecraft ok qui adesso ce lo mostrano più chiaramente eh quello era Steve quello era decisamente Steve ragazzi eh però lo so perché ho giocato ieri sera quindi era decisamente Steve quindi anche Ubisoft sembra essere partner di questa cosa eh eh ragazzi cosa ne pensate quello che avete visto è il nuovo assortimento di giochi sia da Nintendo che il numero di terze parti che partecipano al sviluppo di Nintendo Switch giochi sviluppo di Nintendo Switch oggi avete ascoltato qualcuno di questi sviluppatori ma ce ne sono molti altri all'interno di Nintendo che stanno sviluppando giochi originali introdusciamo ok quindi introdusciamo un nuovo modo di giocare con Nintendo Switch le caratteristiche uniche quindi abbiamo rivelato nuovi colori adesso vi illustro le configurazioni di Nintendo Switch ok il sistema includerà la console il Joy-Con due supporti ok quindi due supporti per il polso il grip il dock un cavo HDMI e un adattatore della corrente il Pro Controller sarà disponibile separatamente vabbè ma questa è la d'aspettazione ci saranno due versioni di esso un modello con ah saranno due modelli a lancio quindi uno con i controller saranno gli stessi soltanto che varierà il colore dei Joy-Con uno rosso uno blu oppure lo rosso lo blu lo rosso lo blu ok altri dettagli ci saranno sullo Nintendo Switch dopo questa presentazione alla fine di questa presentazione ma prima quindi prima voglio chiedere a Nintendo America e a Nintendo Europa di ok questo è Nintendo Europe ci saranno vari ringraziamenti finalmente sapete tutto su Nintendo Switch un nuovo appeal quindi ragazzi veramente veramente bello tante 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 novità ok qui si scrive vabbè qui sta parlando probabilmente degli eventi europei ok c'è Parigi Londra e Francoforte ok gli eventi ok nei prossimi mesi faranno altri eventi dove la gente potrà provare Nintendo Switch quindi vabbè se guardate il sito ufficiale Facebook Twitter Instagram per vedere dove saranno questi eventi io andrò ad alcuni di questi eventi e spero di vedervi e adesso passo la parola al collega New York per Nintendo America io ovviamente non potevo che essere leggi è qui eh sì eh sì qui è notte ma l'atmosfera è palpabile c'è un piccolo gruppo adesso perché è notte ma domani vi farò vedere tutto chiaramente ci sono messaggi e Twitch e su tutto guardate la spillettina di Mario ci sono dei messaggi tweeting adesso tutti stanno twittando e ovviamente vi dice nintendo.com slash switch sono un sacco di persone che non possono non ce la fanno più ad aspettare per provare nuovi giochi grazie per adesso quello che abbiamo visto nei nuovi eh tipo di giocare i giochi che vanno più molto adesso combinano le nuove innovazioni di gioco ma ovviamente il botto più grosso l'hanno fatto in realtà i giochi mostrati una cosa manca che cosa ah è Zelda ecco che cosa manca Breath of the Wild quindi dov'è quindi sarà possibile provarla a a New York guardiamo guardiamo eh ecco c'è Miyamoto quindi sei qui molto presto stai giocando il nuovo Nintendo il nuovo Legend of Zelda eh qui si fa questo segno un sacco di fans quando lo lanciamo Legend of Zelda non chiederlo a me il produttore sei tutto sul gioco quando lo lanciamo ecco bisogna lasciarlo bisogna richiederlo a Tokyo non possiamo che tornare a Tokyo per chiedere a lui quando lo lanciamo quando lo lanciamo Zelda eh sì 3 marzo 2017 eh sì quindi confermato praticamente credo eh sì ora meno di due mesi domani ok quindi gli eventi domani e i prossimi giorni e prendiamo il pre-order in Giappone in gennaio il 21 gennaio in Giappone pre-order ok spero che vi abbiamo mostrato abbastanza un'ultima cosa da condividere prima umilmente vi ringrazio per aver ascoltato in tutti intorno al mondo e grazie a tutti eh sì eh sì eh sì eh sì probabilmente al lancio ragazzi eccoci qua godiamoci Zelda grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Lancio con la console di Zelda. Mamma mia. Già mi vedo quell'interazione che si è vista col Joy-Con, no? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Anche combattimenti a cavallo? Beh, 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 beh. Rest of the Wild. 3 marzo, confermato quindi al lancio. Ok, ragazzi, penso che siamo arrivati alla fine di questa presentazione. Esatto. Grazie per essere stati con me e adesso procedo subito a mettere online la presentazione. Ciao, ciao da Marzale. Se vi è piaciuto mettete un like. Grazie, ciao.